Per la Nurese oggi è iniziata la seconda era targata a Marco Mariotti che torna a Nuoro dopo l'addio alla panchina verde e azzurra del tecnico Guglielmo Bacci. Il tecnico romano ha incontrato il presidente Michele Artedino e nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento. Marco Mariotti si ricomincia, da dove si riparte? Tornata a Nuoro, sette partite alla fine, con quali propositi, quali obiettivi? Si riparte sempre per fare bene, per fare bene. Prima di tutto un ringraziamento al presidente che mi ha chiamato, vuol dire che è un atto di stima, sembra un po' strano, però è un atto di stima dopo cinque mesi, vuol dire che uno ha lasciato anche un buon ricordo. I propositi quali sono? Cercare di fare il massimo possibile. Questa è una squadra che secondo me ha dei valori importanti e valori importanti vuol dire prima di tutto fare bene, trovare allegria e cercare di puntare a quello che io secondo me era un obiettivo che noi c'eravamo rifiutati all'inizio, ai play-off. Trova qualche volto nuovo, insomma mancano sette partite, subito la prova del fuoco con l'Olbia lanciatissima, l'occasione giusta per ripartire per la Nurese? Assolutamente sì, per ripartire, a parte la Nurese non si è mai fermata, è andata un po' lento però non si è mai fermata, è una bella partita, è un derby sentitissimo, so che avremo delle difficoltà perché mancheranno alcuni giocatori, però questo non è importante, è importante andare in campo, rispettare il derby, rispettare l'avversario che è un avversario importante e fare il massimo delle nostre possibilità. Poi alla fine dei 94-95 minuti, quelli che saranno, tireremo le somme.